nuovo tutorial una richiesta dell'amico leonardo brano dei pu amici per sempre scaricate il pdf che trovate al link qui sotto in descrizione per poter seguire al meglio il tutorial partiamo dal nostro groove base che comunque lo vedremo in tutto il brano quindi ogni parte della struttura presenterà appunto questo groove poi vedremo tutte le variazioni dei vari finali dei vari fill appunto che ci sono nella canzone allora il groove viene suonato con un ostinato tutto in ottavi o meglio chi è scusate stavo litigando con il gatto perché voleva entrare mamma mia allora torniamo al nostro groove ostinato appunto in ottavi sul charleston cassa sull'uno sul due troviamo sul rullante primo ottavo puntato e ultimo sedicesimo ultimo sedicesimo che vede però una ghost note sul tre troviamo primo sedicesimo con la cassa e secondo un'altra ghost note sul rullante sul quattro un bel rullante pieno bella suono questo groove ci fa l'accompagnia per tutta la canzone iniziamo a vedere le variazioni allora la prima la troviamo nella strofa nel finale numero uno in cui troviamo cassa sull'uno rullante sul due sul tre una pausa quindi solo ostinato di charleston e sul quattro un bel flam suonato sul rullante altra variazione la troviamo nell'ultima misura che precede il primo ritornello sull'uno cassa e crash sul due troviamo sul battere il charleston sul tre troviamo charleston sul battere e primo tom sul secondo ottavo sul quattro troviamo un lancio di due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano ritornello che vede il nostro groove e anche qui troviamo sui due finali indicati due variazioni primo finale cassa sull'uno e rullante sul due sempre col nostro ostinato in ottavi sul tre abbiamo primi due sedicesimi sul rullante e un colpo sul secondo ottavo sul tom stessa cosa sul quattro in cui cambiamo il tom secondo finale che vede cassa sull'uno sul due troviamo rullante sul primo ottavo e gli ultimi due sedicesimi sul primo tom sul tre troviamo primo sedicesimo di pausa poi secondo tom e rullante rispettivamente sul secondo e terzo sedicesimo quindi secondo sedicesimo e secondo ottavo sul quattro troviamo due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano procediamo con il nostro groove prima misura della strofa successiva in cui la batteria non parte se non appunto sul quattro con un bel colpo di rullante piccola variazione la troviamo sulla settima misura della seconda strofa appunto in cui sul quattro troviamo anziché un colpo di rullante troviamo il primo ottavo sul primo tom e poi due sedicesimi sul rullante arriviamo al nostro feel che ci porta alla parte strumentale della strofa rivediamo un feel che abbiamo già visto prima quindi sul tre troviamo due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul tom e successivamente sul quattro due sedicesimi di rullante e il secondo ottavo sul secondo tom o sul timpano a piacere primo finale che vede la prima parte con il nostro groove di base e sul quattro tutto in sedicesimi quattro colpi sul rullante secondo finale che vede il feel che abbiamo trovato sul lancio per il primo ritornello quindi casa sull'uno, sul due charleston, sul tre primo ottavo sul charleston e secondo ottavo sul primo tom e poi sul quattro due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul timpano o anche qua sul secondo tom a piacere nostro groove che prosegue per tutto il ritornello variazioni sui due finali sul primo finale troviamo cassa sull'uno, sul due primo ottavo sul rullante e secondo sul primo tom sul tre una pausa del sedicesimo e poi sul secondo sedicesimo secondo tom e sul terzo sedicesimo o il secondo ottavo il rullante sul quattro due sedicesimi di rullante e secondo ottavo sul timpano secondo finale che vede cassa sull'uno, sul due troviamo ultimo sedicesimo sul rullante che continuerà appunto con quattro colpi quindi quattro sedicesimi sul tre sempre sul rullante sul quattro abbiamo un primo sedicesimo di pausa e gli ultimi tre sedicesimi sempre sul rullante parte della solo che vede una variazione sull'ottava misura primi due quarti col nostro groove di base sul tre troviamo sul secondo ottavo un colpo di rullante sul quattro troviamo primo ottavo di rullante e ultimi due sedicesimi misura successiva che chiude con un cassa e crash sul battere proseguiamo con l'ultima parte che è appunto due giri e vediamo su entrambi i finali delle variazioni sul primo finale primi due quarti col nostro groove di base sul tre troviamo due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul primo tom sul quattro sempre due sedicesimi sul rullante e secondo ottavo sul secondo tom o sul timpano a piacere come sempre ultimo finale che vede sull'uno ottavo puntato di cassa e ultimo sedicesimo sul rullante sul due partendo dal secondo ottavo abbiamo un lancio che si divide con primo sedicesimo sul tom poi abbiamo tre sedicesimi sul rullante poi successivamente un altro sedicesimo sul secondo tom tre sedicesimi sul rullante e due sedicesimi sul timpano misura successiva che chiude con un cassa e crash sul battere ok anche di questo brano abbiamo visto tutte le parti concentratevi sul groove mi raccomando lavorate bene sulle ghost note poi tutti i file insomma mettete insieme il tutto e divertitevi se vi è piaciuto il video mettete un bel like iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e attivate le notifiche come sempre vi auguro un buon divertimento e un buon groove alla prossima ciao